Che cosa c'è dentro Google Apps? C'è tutto. Ci sono i documenti condivisi, quindi la possibilità di iscrivere in maniera collaborativa dei documenti. Si limitano così tutti i documenti cartacei, quindi i verbali, le programmazioni, tutto è qui su Google Drive. La cosiddetta operazione in cloud, cioè tutto spostato su un server esterno. Non serve installare nulla sul computer, è sufficiente un browser. Da qualunque computer si accede a tutto. Io posso adesso da qui accedere a tutti i miei documenti scolastici. Vi faccio un esempio. Abbiamo recentemente, proprio questa settimana, approvato una proposta di regolamento da Sottopora Consiglio d'Istituto per l'uso dei cellulari a scuola. Guarda caso di quello di cui ha parlato qualche ora tra la patenzia. Come l'abbiamo redatto questo documento? Qui vedete un esempio. In modo collaborativo, cioè io ho iniziato, ho buttato in una bozza, l'ho condivisa con tutti. Quelli che vedete a fianco sulla corona di destra sono i commenti di vari insegnanti che hanno potuto intervenire, correggere, modificare, evidenziare. Cioè abbiamo sostanzialmente fatto un lavoro che in presenza di richiesto moltissimo tempo, riunioni, tutta una serie di attività difficilmente realizzabili.